Allora c'è un ragazzino che rimane bocciato in fine anno. Allora il padre dice, ah sei rimasto bocciato? Allora vieni a lavorare con me in boteco del bobbiero. Allora vado, passano in boteco, e dici il padre, ah questo si fa così, si fa così, si fa così, si fa così, si è imparato? Ok, va bene. Allora si è imparato tutte cose. Allora viene il primo cliente e fa, buongiorno, buongiorno, prego, prego. Allora comincia a fare la barbara. Dai che apri è, vi accerciavolo. Allora vede che poi ad un certo punto fa clac e gli taglia, gli taglia e il padre è tutto incazzato, va lì gli fa, porca puttana è, amore, mentre state lo schiaffo, questo si abbassa e gli ha lo schiaffo a questo qua che serve, al cliente e niente gli fa, porca puttana ha tirato lo schiaffo, mi ha fatto un male cane, ah scusi, scusi, non volevo, volevo piarla con mio figlio, vabbè non si preoccupi. Allora in un certo momento, vabbè fa un'altra volta la barbara sul lato destro, sul lato destro e a un certo punto gli scappa il raso e glielo taglia, crack, porca puttana è, il padre lo ripete, porca puttana è un pezzo di merda, mentre c'è stato il tuo schiaffo, quello si abbassa e gli ha lo schiaffo di nuovo al cliente, il cliente, porca puttana ci fa capire la muscella, e scusi di nuovo, no niente su cosa che capita, allora il figlio ci stava ha messo a posto la basetta, ci scappa uno stanuto, ci, e che fai gli tagli a un'orecchio, porca dobbio, oh come ho fatto, oh ragazzi ragazzi, nasconde l'orecchio prima, mi gonfia, Vedi, 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 vedi.